La prima incisione in assoluto dedicata alla figura di Luigi Capotorti, compositore di Molfetta e allievo di Niccolò Piccini, figura di spicco nel panorama musicale napoletano dell'Ottocento. L'associazione che porta il suo nome lo ricorda. È stato veramente un musicista che ha anche lasciato dei saggi per esempio l'uso della voce di contralto, manuali che sono stati utilizzati anche per diversi anni dopo la sua scomparsa. L'incontro è con l'etichetta pugliese Digressione Music, che da anni si impegna nel recupero di repertori inediti. Il nostro compito e il nostro dovere è quello di far conoscere questi repertori quasi sempre inediti, quasi sempre conservati in archivi parrocchiali, comunali e stiamo cercando anche nel nostro catalogo di arricchire sempre di più questo materiale discografico. Il programma abbraccia il repertorio sacro e strumentale è eseguito in versione originale con edizioni d'uso filologiche. Abbiamo posto un punto di partenza a questo progetto che continuerà nei prossimi mesi, già il prossimo 17 marzo 2020 avremo il piacere di presentare al pubblico il concerto in onore del compleanno di Capotorti e poi in estate abbiamo pensato ad altri eventi che vadano a celebrare questo nostro illustre concittadino.